Ciao a tutti, ci siamo anche oggi, buongiorno e buon martedì. Oggi andiamo a parlare del secondo prodotto del kit Deraj, vi ricordate ieri abbiamo parlato del cleanser che va a dare una bella pulizia alla nostra pelle, va a rimuovere trucco e polvere dalla nostra pelle che è sempre sporca, quindi c'è bisogno di pulirla profondamente ma in un modo gentile e naturale e con questi prodotti può essere fatto senza nessun problema. Dopo il cleanser, quindi dopo aver pulito il viso e il collo, andiamo a usare il secondo prodotto del kit che è un tonico, il tonico Deraj. Questo prodotto contiene quattro oli essenziali, tra cui l'ilang ilang, il cipresso, la palmarosa e l'olio di coriandolo. Vi spiego un attimo le proprietà benefiche di questi quattro oli. Il l'ilang ilang è un olio calmante, rilassante, conosciuto veramente tantissimo per questa cosa, rilassante non solo per la mente ma anche per il corpo, quindi entrambe funzioni. Alla mente, quindi emotivamente, ispira un senso di amore per se stessi, di fiducia, gioia e pace. Il secondo olio, come ho detto prima, è l'olio di cipresso. L'olio di cipresso è un antibatterico, antimicrobico, è un olio anch'esso rilassante, rinfrescante. Quest'olio regola anche, non so se l'avete mai utilizzato, per regolare la circolazione, quindi è ottimo in un tonico perché rivitalizza la pelle del viso e del collo, quindi la nostra pelle, che è tanto esposta agli agenti atmosferici e allo stress, sia nell'ambiente che nel nostro stress emotivo. L'altro olio è il palmarosa, che è un olio essenziale per tutti i problemi di tutti i tipi di pelle, proprio perché è ottimo, perché stimola la crescita di nuove cellule, quindi l'olio di palmarosa va a regolare anche la produzione di sebo della pelle, quindi olio della pelle, idrata, nutre e velocizza, quindi la guarigione, in caso di ferite o comunque guarigione delle cellule della pelle, quindi dell'epidermine. E l'ultimo olio, ah, le ho detti tutti e quattro, ok, sono quattro oli e ovviamente è contenuto anche dell'aloe, in questo tonico, è magnifico. Allora, c'è chi lo utilizza con un dischetto di cotone, spruzza appunto, perché è a spray, spruzza una dose di tonico sul cotone e poi lo passa sul viso dopo aver usato il cleanser, ok? Mentre io preferisco proprio spruzzarlo, fra le due spruzzi, proprio così sul mio viso e collo, e vi assicuro che la sensazione è quella brezza marina con un caldo estivo, quando ti spruzzano un po' d'acqua di mare, no? Però ovviamente non è salata, ma quella sensazione di frescura, di freschezza incredibile che il tonico offre dopo aver pulito la pelle. Ok, quindi per oggi è tutto, il Verage Tonico verrà della Key Verage, vi aspetto domani per il terzo prodotto, che non completerà, ma quasi completerà il kit Verage, non vi dico niente, vi aspetto domani alla stessa ora, ancora non sono riuscita a trovare la possibilità di andare live su Facebook, probabilmente tutte le cose che cambiano, è cambiato anche quello, ho trovato che posso fare dei video, ma non sono in diretta, per cui proverò a fare delle registrazioni e poi pubblicarle ogni giorno alle 13.30 sul nostro gruppo, adesso il mio gruppo, Oli Essenziali che meraviglia, vi aspetto lì, mi raccomando commentate il post, il video, con i vostri post e con le vostre esperienze su questo prodotto, perché siamo tutti curiosi di sapere come è la vostra esperienza con questo prodotto da terra. Grazie, vi saluto ancora e vi aspetto domani. Ciao ciao!